Sono incominciati questa mattina gli interventi di estrema urgenza per la manutenzione delle caditoie stradali localizzate nelle aree della città a maggior rischio di allagamenti. Nelle immagini le operazioni che questa mattina hanno interessato l'area dello Stadio San Paolo. Il programma che prevede operazioni straordinarie di pulizia interessa i punti del territorio cittadino orograficamente più esposti al rischio di allagamento. Fra questi ci sono anche via Case Puntellate, via Camaldolilli, piazza San Nazaro, piazza Arabia, via Agnano agli Astroni, Corso San Giovanni, via Le Marconi e diversi sottopassi per un totale di 3.000 caditoie. La scelta di eseguire gli interventi in questo periodo dell'anno è dovuta alla volontà di anticipare i tempi rispetto alle stagioni di maggiore piovosità, affiancandosi quindi alle normali attività di manutenzione già svolte sul sistema di collettamento delle acque superficiali e consentiranno di diminuire fortemente il rischio di allagamento nelle zone maggiormente esposte nel periodo autunno-inverno. È stato programmato questo intervento e è necessario fare la pulizia delle caditoie prima delle forti piogge che avvengono in genere dopo l'estate. In questo modo tutto sarà funzionale per evitare allagamenti nelle zone depresse e permettere la captazione delle acque superficiali.